Oggi vi racconto la storia di un'imprenditrice italiana che ha creato un marchio di alta moda, di lusso italiano, famoso in tutto il mondo, molto bello. Questa imprenditrice si chiama Adele Casagrande. Quasi tutti voi conoscete il nome dell'azienda che ha creato, ma forse non tutti conoscevano il nome di Adele. Adele ha iniziato nel 1918 con un laboratorio di pellicceria e poi si è unita in matrimonio con Edoardo. Non posso dirvi il cognome altrimenti vi svelerei il nome del marchio perché il cognome del marito ha poi dato luogo al nome del marchio di questa azienda. Ciò che è interessante è che nel 1946 marito e moglie hanno deciso di lasciare integralmente lo sviluppo dell'azienda alle loro cinque figlie e insieme a Karl Lagerfeld, che è stata la punta di diamante di questa azienda, hanno portato avanti la grande Fendi. Ciao, buona giornata! Ciao, buona giornata!